Quali ritiene che siano le innovazioni tecnologiche e scientifiche più importanti, più interessanti? Alcune apparecchiature, alcuni nuovi ritrovati possono aiutare proprio a capire ancora meglio alcuni elementi fondamentali come gli ovociti e gli spermatozoi per poter selezionare al meglio sia gli ovociti che gli spermatozoi per dare poi degli embrioni di qualità migliore e quindi aumentare in definitiva i risultati nella fecondazione in vitro.